Nuova ondata di maltempo ieri sera in Friuli, Venezia Giulia a causa di un violento temporale con forte vento, piogge e grandine che si è abbattuto in particolare sulle province di Udine e Pordenone. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza tetti danneggiati e scoperchiati e rimuovere alberi e pali dalle strade. In tutta la regione sono state 350 le richieste di soccorso giunte ai pompieri. Durante l'evento 5.000 utenze sono rimaste senza elettricità. Alle 22 erano ancora 4.000 quelle in attesa di ripristino. Le aree più colpite sono state quelle di Resia, Pontebba, Ovaro, Lusevera, Gemona, Trasagis, Montenars. Disagi anche nel Magnaghese e Spilimberghese. A Monfalcone è stata soccorsa una donna di 80 anni sulla cui auto si è abbattuto un albero. L'anziana è stata portata in ospedale in codice giallo. Tra Carnia e Gemona un treno con 150 passeggeri a bordo è rimasto fermo per alcune ore a causa della caduta di alberi lungo la linea ferroviaria. La Davasili su un fulmine ha provocato un incendio boschivo. Le operazioni di spegnimento e messe in sicurezza sono proseguite anche questa mattina con l'impiego dell'elicottero della protezione civile. Ieri sera tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco dei comandi di Pordenone e Udine sono state impiegate nell'emergenza maltempo. Nel territorio di Udine è giunto anche un modulo di colonna mobile regionale formato da nove vigili del fuoco dei comandi di Trieste e Gorizia. Oltre 300 i volontari di protezione civile attivati sui territori.